Roma ce la fa, e ce la sta facendo anche senza Olimpiadi. Così la sindaca di Roma Virginia Raggi a margine della mezza maratona via Pacis risponde interpellata sulle polemiche per il no di Roma alle Olimpiadi del 2024. Lo sport può declinarsi in tantissimi modi, quello di oggi è un esempio, ma possiamo fare tanti altri esempi di eventi sportivi, anche internazionali, che possono venire a Roma. Le Olimpiadi non sono l'unico esempio, le sue parole.